Per rotta scambiano i due, quindi Di Cesare in verticale a cercare Cianci, viene agganciato, intervento sul pallone a giudizio dell'arbitro e prova a ripartire con il lancio per Ciofani. Ancora spazio, palla in aria per Dursi, anticipato, calcio d'angolo. Cercato la combinazione con Cianci che però non riesce ad arrivare, fa prima di lui Mansur. Indietro per De Marino, altro lancio in profondità e Sapione che va... Giron nel pallone spizzato da Vona, che involontariamente ha di fatto spazzato l'area della Ternana. De Marino, lancio lungo verso Giron, posizione regolare la sua... Pallone intercettato dalla difesa della Ternana. Paghera, Faietti, Salsano. Intervento in scivolata di De Marino che concede semplice rimessa laterale. Riconquista il bisceglie con Vona. De Marino. Pallone verso Giron, lo attende da quella parte, defendi. Coccia, nuova azione per il Potenza. Bacle, colpetto per l'ingresso in area di Volpe. La buona chiusura di De Marino, occhio perché si gioca ancora. Sepe per Zampa. Riccio orienta il controllo, prova a servire l'ingresso in area di Bacle che scivola qui. Non c'è neanche in qualche modo riesce. Centrocampista di spessore, Giuseppe Maimone. Ex-Regina, tra le altre. Giocata in basificata. Lascia tenere il pallone a passarlo a Baresanovic, che allarga a Ziosmanovic. Bello con il tocco di coscia all'interno dell'area di rigore, poi l'inserimento per Longo, che non riesce, il controllo orientato, a superare. Moulet. Il pallone verso Borrelli. Altobello e De Marino lottano con Marotta e alla fine proteggono la rimessa dal fondo. Su Daniele Rocco, che pensa per un attimo al tiro, prova ad aprirselo. Marchic, scivolata, preciso, prende il pallone. Ancora Rocco. Romita. Sta giocando anche al Menti di Castellamare di Stabia, la sfida tra Juve Stabia e Catania. Tito prova a cercare Santaniello, poi l'intervento da parte di Tito. Vuole un compagno libero, ringhia su di lui però Tito, che alla fine gli porta via il pallone con l'aiuto di Aloi. Il pallone in profondità per Raffella, sfida l'uno contro uno De Marino, che alla fine concede semplicemente la rimessa. L'avanzata di Mancino. Si invola, cerca un'incursione in velocità. Raffi. Prescia. Statella. Fermato la ragione. Makota. Il tocco per Coppola. Dentro per Cianci. Prova da domesticare il pallone. Bravo a frapporre il corpo tra Boldor. Cittadino. Zona tiro per lui. Sfera colpisce Zampa. De Marino. Rocco. Cianci. Il pallone verso Ricci. Lo insegue De Marino. Ancora Ricci. Del primo tempo come Diego Conson sia stato uno dei migliori nelle file della formazione di Eziolino Capuano. Bisceglie che dovrà essere sicuramente più in cittadino. Bovo. Tra le linee Rizzo che si accentra molto. Perde qui il possesso del pallone. E può ripartire il Bisceglie con Cittadino. Sale a destra Vitale. Largo Bubas. riceve ora il pallone. Prova l'uno contro l'uno l'argentino. Ancora Bubas. Le finte di Bubas. Che cerca il fondo. La chiusura di De Marino. In calcio d'angolo. Pronto.